Per il Comune di Signa questo sera è un giorno importante perché con questo accordo partiranno i lavori per un tratto che dovrebbe andare a migliorare pesantemente le abilità nella zona. Oggi per Signa è un momento fondamentale e importante, sì che innanzitutto volevo partire con i ringraziamenti soprattutto agli uffici comunali che si sono prodigati in questo periodo a preparare tutti gli atti per arrivare alla firma di questo accordo. Naturalmente volevo ringraziare anche gli uffici della Regione Toscana che insieme ai nostri hanno redatto tutto quello che riguarda questo tratto, questo primo stralcio di tratto della viabilità. La viabilità sui territori di Signa e la Strassigna e di tutti i comuni limitrofi, le grandi difficoltà che conosciamo tutti e che viviamo costantemente è una risposta che i cittadini a Signa si aspettano da 30 anni. Con questo accordo vedremo tra il 2017 e il 2018 finalmente ripartire i lavori che avevano circa 10 anni che non proseguivano. Questo per oggi è veramente un giorno importante e significativo per tutta la comunità di Signa.